E' ancora il Parco del Pionta, in un 3 agosto davvero torrido, il teatro dell'ennesimo fatto di cronaca. Un tunisino è stato ritrovato morto, sembra addirittura da uno o due giorni, proprio lungo il cantiere che vedete alle mie spalle della pista ciclabile che appunto è in fase di costruzione. L'uomo aveva precedenti per rapina e spaccio. La salma è stata ritrovata alle 8 di mattina dagli operai che sono arrivati nel cantiere per iniziare i lavori. Ci troviamo nel tratto di pista ciclabile che congiungerà via Lasky con viale dei ricercatori. Una zona ci conferma chi la frequenta per lavoro, scelta spesso da tossici e spacciatori. Sul posto si sono portati i carabinieri di soccoritori del 118, ma non c'era più nulla da fare per il 43enne. Pare che l'uomo sia morto da almeno un giorno. La salma è stata recuperata dalla misericordia di Arezzo. Accanto al cadavere è stata ritrovata una siringa, ecco perché il sospetto che la causa della morte sia un overdose, ma gli inquirenti non escludono altre piste, compesa quella di un regolamento di conti. Il tunisino era persona nota, le forze dell'ordine aveva precedenti per spaccio, furto e rapina. Ad Arezzo è la seconda overdose in pochi giorni. L'ultimo caso era avvenuto a fine luglio a Campo di Marte. Stavolta però finito bene, il 49enne era stato soccorso e salvato dal 118.